Sono stato stroncato. Poche parole per esprimere la rabbia al termine dell'udienza. Questa mattina l'ex sindaco di Torre del Greco Ciro Borriello è tornato in aula per essere ascoltato dai PM nell'inchiesta sui rifiuti che lo vede imputato. I fatti risalgono all'agosto 2017. L'udienza al Tribunale di Torre Annunziata è durata oltre un'ora. Dal 21 dicembre all'8 gennaio immaginiamo un po' quale ditta potevi già lavorare a Natale a Torre del Greco. Queste sono le uniche tre proprie che ho fatto, tutte documentate e tutte ben immotivate. Perché c'erano necessità queste proprie? Perché le ditte che avevano partecipate all'appalto successivo, cioè quella antecedente, quella di quattro anni, non era in regola. Avrei sperato che mi avessero dato l'opportunità di illustrare tutto, le parole di Borriello. Invece non è andata così. Ai microfoni di TV City abbiamo raccolto la prima reazione accalto dell'ex primo cittadino. A termine di questa udienza qual è lo stato unanimo di Ciro Borriello? Un po' di rabbia c'è perché avrei sperato che mi avessero dato l'opportunità, come giusto che sia di illustrare veramente tutto. Invece sono stato stroncato, forse anche per tecniche diciamo di udienza che io non conosco bene, quindi aspettiamo adesso quello che succederà. Per le elezioni come si procede? Io proseguo dritto per la mia strada. Come ho già detto, lunedì da Fratelli d'Italia adesso avevamo forti delle nostre ragioni. Non ho nessun dubbio, non ho nessuno scritto nell'armadio, anzi il mio desiderio è proprio di spalancare questa armadio e di far uscire tutto. Il pubblico mistero prende visione e può alla prossima udienza interlupire e a quel punto si genererà se acquisire un me, cioè se utilizzare. C'è il contatto meno, a questo punto.